Abbiamo cercato di lasciarci alle spalle la partita di sabato che sicuramente non è stata una delle migliori. Adesso abbiamo subito un'occasione per rifarci in casa e stiamo cercando di preparare la partita per arrivare il più pronti possibile per riscattare la brutta figura passata. Abbiamo fatto una buona partita in casa col Parma, abbiamo avuto sicuramente il supporto dei nostri tifosi e sabato, giocando in casa, cercheremo di fare la miglior partita possibile per cercare di ottenere la prima vittoria stagionale. Sicuramente siamo un gruppo molto giovane, un gruppo che sta cercando di crescere insieme, che sta insieme da qualche mese e che col passare del tempo sicuramente riuscirà a fare sempre meglio. I margini sicuramente sono tanti, perché come ho detto prima siamo abbastanza giovani, quindi col passare del tempo alcuni meccanismi verranno di più, alcuni riusciranno a conoscere meglio questo campionato che è un campionato difficile. E poi abbiamo anche dei giocatori più esperti che comunque sono arrivati a darci una mano, che si stanno mettendo in condizione e sicuramente saranno un valore aggiunto per noi. Non si può discutere il fatto che in quattro partite abbiamo fatto solo due gol e noi stiamo cercando di lavorare in tutti i settori, da quell'offensivo a difensivo, ma non so da cosa possa dipendere. Sicuramente abbiamo incontrato in queste prime due partite di campionato una squadra forte come il Parma, che comunque qualche occasione nitida per segnare l'abbiamo avuta. Mentre sabato abbiamo affrontato una squadra che si difendeva bene, che non ci ha permesso di esprimere il nostro gioco. Noi dobbiamo migliorare proprio in questo, perché affronteremo tante squadre che faranno della corsa, dei duelli personali, delle seconde palle, la loro forza.